Un'altra donazione che viene incontro alle esigenze e ai bisogni di questo reparto di animazione che come ci spiegava poco fa il dottor Ferri è sempre a pieno servizio. Sì, abbiamo aderito alla richiesta del dottor Ferri come anche altre volte e in questo caso abbiamo fatto questa donazione grazie a un contributo importante che è la Seda Rezio, la Reditex e ho coinvolto anche i nasi rossi perciò questa donazione di tre monito che ha un costo totale di circa 20.000 euro è stata fatta grazie alla collaborazione tra Calcite, Nasi Rossi e azienda Reditex. Durante questa pandemia Arezzo ha potuto vedere quanto il lavoro del Calcite sia veramente importante in tutte le situazioni? Abbiamo cercato nel momento possibile di avere quelli che hanno bisogno abbiamo cercato anche di coinvolgere un po' tutte le persone di Arezzo e devo dire che quando c'è stato bisogno nessuno si è arrivato indietro. Il nostro ospedale ha potuto contare sulla partecipazione veramente attiva dei cittadini. Grazie.